Prove di fuga per la Serie Z Solofra, la squadra di coach Alfonso Senatore strappa l'ennesima vittoria nell'ultimo turno di campionato contro la Travel Basket Pozzoli con il punteggio finale di 64-69. Doppia cifra per Michele Esposito, 20 punti, Greco 18 e Giovanni Esposito 11. Il risultato, arrivato nello scorso weekend, porta alla formazione cara al presidente Eugenio Callucci in vetta solitaria in Serie D a quota 18 punti, più 4 rispetto alla palla Canesso-Piedimonte-Matese. La prossima giornata, l'undicesima del campionato, vedrà in campo la SLZ in casa opposto a conto la Dragonaut Aversa. Vince e convince anche la Virtus Seriano Basket di coach Antonio Bellizzi. Le Leonesse battono tra le mulamiche del palacardito 82-47 la Basilia Basket, parziali di 25-4, 46-21, 62-30 e 82-47. Doppia cifra per D'Ambrosio e Moretti a quota 28 punti. La squadra del Tricolle resta agganciata alla vetta a quota 16 punti in condominio con Agropoli. Nella prossima weekend, esame in esterna contro Fasano. Grazie a tutti.